Un cambiamento significativo si è verificato all'interno del panorama politico di Teramo. Il consigliere comunale Andrea Corre ha annunciato la sua uscita dal gruppo di Insieme Possiamo passando al gruppo misto. Una mossa che segue la sua precedente decisione di dimettersi da capogruppo, segnalando una crescente distanza dalle dinamiche interne del gruppo politico. È una decisione sicuramente sofferta, non semplice a livello individuale, ma che è frutto di un ragionamento e di un percorso per il quale non mi ritrovavo più nella linea politica adottata dal gruppo di Insieme Possiamo. Non vi erano per me le condizioni per continuare un percorso di rappresentanza del primo gruppo consigliare di questa assise comunale e quindi era doveroso come forma di rispetto verso i miei colleghi nel momento in cui ho avvertito questa esigenza lasciare il gruppo perché in qualche modo credo che rappresentare Insieme Possiamo rappresenti anche in qualche modo la forza di maggioranza all'interno della compagine che sostiene Gian Guido d'Alberto. Io resterò saldamente all'interno della maggioranza con un atteggiamento di lealtà nei confronti del sindaco senza rivendicare nulla a livello personale ma con in qualche modo quella libertà di pensiero che può essere propria di un consigliere che non è più chiamato a rappresentare il principale gruppo di maggioranza. Il gruppo misto che già conta la presenza di Alessio Degidio accoglie quindi un nuovo membro che promette di portare una ventata di cambiamento e di indipendenza all'interno del Consiglio Comunale. Questa scelta non è stata motivata dal desiderio di diventare un battitore libero tenuto a precisare core ma è stata fatta per avere una maggiore libertà di movimento rispetto alle restrizioni imposte dalle logiche del gruppo da cui fu riuscito. Qual è oggi il suo rapporto proprio con il sindaco d'Alberto? È un rapporto ottimale, personale, che continua nel dialogo costante e quotidiano. Certamente oggi non sono più tenuto e chiamato adempire a quel ruolo di sintesi che deve essere proprio del capogruppo della lista del sindaco e quindi può essere un rapporto più diretto e più franco che sicuramente gioverà a questa maggioranza in un momento che fisiologicamente è inutile nasconderlo. È un momento complesso e che richiede in qualche modo l'impegno di tutti per uscirne rafforzati agli occhi della città e per mettere in pratica quello di buono che c'è all'interno del programma che ci ha consentito di essere confermati con quasi il 55% dei voti.